Ci ricorda quali sono le categorie più a rischio e quanto è letale il coronavirus e quanto più letale della comune influenza? No, non è letale, è una malattia influenzale, una sindrome influenzale che ha un variegato di spiegamento di caratteristiche. Si passa da un po' di raffreddore di naso chiuso a condizioni simili influenzali, quindi con febbre, con una manifestazione clinica generale, nell'80% dei casi. Un 15% dei casi ci può essere una manifestazione più pesante, cioè una polmonite virale primaria, che è un po' una cosa che normalmente non capita con l'influenza e solo una piccolissima quota di soggetti che vanno in difficoltà respiratoria, in una situazione grave, con una mortalità che nella Cina è di circa 2,9%, ma fuori dalla Cina ad oggi è sotto lo 0,4%. Quindi, come dicevo anche all'inizio, una patologia banale, ma che per la sua sommatoria di effetti diventa devastante e può creare problematiche innanzitutto al sistema sanitario, ma poi anche al quieto vivere, alla vivere comune, come lo conosciamo. L'allarme sociale